Musica Giannone, giornata di mobilitazione nazionale in difesa delle province. Lavoro, sportelli comunali con il progetto Silla 2. In tre cataloghi le mostre del millennio dell'abbazia benedettina di Cava dei Tirreni, a Villa dei Ruggero le ceramiche di Antonio D'Amore. Ben ritrovati con le notizie del Tg di informazione salernitana.it. Continua la battaglia in difesa delle province. Da tre anni si alternano solo confusi progetti. Manca un'idea vera e complessiva della riforma degli enti locali. A dirlo il presidente della provincia Antonio Giannone nel corso della consueta intervista ai nostri microfoni, annunciando una giornata di mobilitazione nazionale a Roma per il 5 novembre. Il presidente ha poi commentato gli ultimi dati di Lega Ambiente sulla raccolta differenziata e ha ribadito la necessità di costruire il termovalorizzatore. Nei giorni scorsi l'Assemblea delle province del Mezzogiorno continua la difesa per le province. Sì, a Napoli ci siamo ritrovati insieme tutti i presidenti dell'Italia meridionale e comunemente abbiamo condiviso la enorme difficoltà che ormai da quasi tre anni stiamo vivendo in un clima di completa delegittimazione istituzionale in cui il governo annuncia soltanto provvedimenti per giustificare una esorbitante spesa pubblica per la politica che risiede innanzitutto nel governo centrale e in Parlamento pensa di dare in pasto all'opinione pubblica l'abolizione delle province ma da tre anni si alternano soltanto confusi progetti che non chiariscono assolutamente chi svolgerà le funzioni che oggi assicurano le province, che fine faranno i lavoratori di questi enti e delle società partecipate che sono collegate. Naturalmente c'è molta preoccupazione anche alla luce dell'arroganza delle risposte del ministro del Rio il quale ha detto che se ne infischia dei pareri dei costituzionalisti, ha detto che la classe politica delle province farebbe bene a trovarsi un lavoro. Io dico che se mettessimo a sondaggio chi per gli italiani deve trovarsi un lavoro, quelli che sono politici in Parlamento certamente lo vincerebbero a stragrande maggioranza. Poi naturalmente questo è il paese in cui ci sono persone come Renzi che dopo aver fatto dieci anni il presidente di una provincia e quindi aver costruito le sue fortune politiche oggi arriva a dire che sono inutili, che vanno abolite e che non servono assolutamente a niente. Quindi certificando che lui per dieci anni è stato inutile, non è servito a niente, ha preso solamente lo stipendio per non svolgere nessuna funzione per i cittadini. E questo dovrebbe essere il nuovo che avanza in Italia. La verità è che manca un'idea vera, un'idea complessiva della riforma degli enti locali, manca un'idea attraverso la quale si possa garantire ai cittadini dei servizi meno costosi e più efficienti, un'idea attraverso la quale si possa garantire una maggiore capacità di dare risposte chiare, senza accavallamento di funzione. L'unica voce seria, autorevole, che si è elevata in questi giorni è stata quella della Presidente della Regione Campania, Stefano Caldoro, il quale ha detto in maniera molto chiara che bisogna partire dalle regioni perché così come sono organizzate non servono assolutamente a niente, anzi rappresentano un freno allo sviluppo, fanno gestione e non programmazione quello che dovrebbero fare. È stato un atto di grande onestà intellettuale che ha riproposto alla nostra presenza, credo che abbia rappresentato anche uno spunto che il Governo potrebbe cogliere come traccia di lavoro, ma sinceramente non ci spero perché come ho detto in più circostanze il Governo Monti è stato il peggior governo della storia della Repubblica, ma questo Governo letta di larghe intese tra PD e PDL si avvia a batterlo facilmente. Io sono stato promotore anche di una mobilitazione nazionale perché ho sostenuto alla presenza del Presidente nazionale dell'UPI Said che le cose non ce le possiamo raccontare tra di noi, tra gli amministratori che hanno in comune il problema. Dobbiamo spiegare all'opinione pubblica, acquisire una ribalta nazionale e per questo è stato convocato per il giorno 5 novembre a Roma, presso il Teatro Quirino, una grande manifestazione nazionale alla quale parteciperanno tutti i Presidenti di Provincia d'Italia con le fasce blu. Abbiamo invitato alla partecipazione e naturalmente io non ho mancato in Provincia di Salerno assessori, consiglieri, ma soprattutto il nostro capitale umano che sono i nostri dipendenti per spiegare all'Italia intera che le province non sono un ente inutile ma sono un ente che assicura dei fondamentali servizi nell'azione di coordinamento di area vasta. Intanto per la provincia di Salerno arriva un finanziamento importante per i villaggi rurali del territorio? Sì, naturalmente al netto di questo clima di ingovernabilità che hanno creato per motivi istituzionali e per le misure legate alla spending review, la rigidità del patto di stabilità, noi andiamo avanti nel nostro lavoro e nella nostra funzione politica. Con grande soddisfazione chiudiamo dopo due anni una vicenda che ci dà la possibilità di erogare al nostro territorio, precisamente a 5 comune e a 22 privati, circa 8 milioni di euro che sono destinati alla valorizzazione dei cosiddetti villaggi rurali. Queste risorse vengono utilizzate dagli enti pubblici per il recupero e la ristrutturazione di strutture che vengono rese fruibili al pubblico sempre nell'ambito dei villaggi rurali, mentre per i privati servono per animare strutture di agriturismo, attività connesse all'artigianato ed è un modo molto significativo ed importante per dare una risposta ad una traccia identitaria del nostro territorio, in particolare del nostro entroterra che è uno scrigno di cultura, di tradizione. Attraverso queste misure la provincia di Salerno concorre a dare valore ai nostri valori. Turismo e promozione del territorio. A Roma la firma di un accordo di programma per la gestione dei siti Unesco. Sì, un altro importante momento. Accediamo ad un finanziamento di 1 milione e 100 mila euro per promuovere insieme ad altre 11 province della rete Siti Unesco Sud Italia i nostri attrattori turistici. Sono 12 siti di cui soltanto la provincia ne può vantare due che sono la Costa d'Amalfi e il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano, con Pestum, Velia e la Certosa di Padula. Le province dimostrano di essere capaci di ragionare insieme, di ragionare in rete e naturalmente il territorio bellissimo della provincia di Salerno è protagonista in questo percorso. La provincia di Salerno conferma anche un altro primato importante, quello sulla raccolta differenziata. Sì, è di ieri la pubblicazione del dato che vede la provincia di Salerno primeggiare in Campania ed è attestarsi ai primissimi posti a livello nazionale. Devo fare i miei complimenti ai sindaci che sono stati capaci di mettere in campo delle soluzioni organizzative valide, evidentemente, ma anche ai nostri cittadini che denotano un dato di civiltà che rende certamente più facile il lavoro degli amministratori. Come amministrazione provinciale in questi anni difficili perché abbiamo ereditato il disastro completo della politica di centrosinistra, cioè quello della gestione del ciclo dei rifiuti, abbiamo posto in campo delle azioni importanti attraverso la nostra società provinciale ecoambiente, riducendo il costo del servizio e mettendo in campo delle soluzioni moderne per lo smaltimento dei rifiuti. Voglio ricordare che lo stir di Battipaglia, gestito da Ecoambiente, è l'unica struttura oggi in Campania che produce un rifiuto biostabilizzato. Tra qualche mese in discarica potranno andare soltanto questi rifiuti biostabilizzati. Siamo gli unici in Campania a potercelo consentire e questo significa avere un argine, una prevenzione importante nei confronti di un ritorno dell'emergenza. Inoltre stiamo lavorando, io sto spingendo anche politicamente, affinché si realizzi il termovalorizzatore, che è una infrastruttura fondamentale per chiudere il ciclo dei rifiuti. L'amministrazione provinciale, recuperando il tempo perso da altri, in tre mesi ha giudicato la gara. Poi le lunghezze burocratiche, i ricorsi di carattere amministrativo hanno frenato questo lavoro. Io ho chiesto al Governo di ribadire una volontà politica per realizzare questa importante infrastruttura. Anche in questo caso aspettiamo risposte. Non ne vedo, vedo molta confusione, molta incertezza, molte battaglie di carattere politico che si consumano sulla pelle dei cittadini. Ma l'amministrazione provinciale va avanti convinta sulla sua linea di dovere. A Palazzo Sant'Agostino si è discusso di femminicidio, stalking e violenza di genere, nel corso del convegno organizzato dall'Associazione Save the Woman. La prevenzione, la tutela delle vittime e la certezza della pena al centro del dibattito moderato dal professor Virgilio D'Antonio. Un fenomeno complesso che si sviluppa sul piano sociale, culturale, morale, politico, penale ed economico e su cui si sono confrontati il questore di Salerno Antonio De Jesu, il presidente della provincia Antonio Iannone, l'onorevole Edmondo Cirielli, componente dell'ufficio di presidenza della Camera dei Deputati, Silberio Sica, presidente della Camera Penale di Salerno, il dottore Ernesto Sassano, sostituto procuratore della Repubblica del Tribunale di Napoli, il professor Gaspari D'Alia, ricercatore di diritto processuale e penale, la dottoressa Francesca Fittipaldi, sostituto procuratore della Repubblica del Tribunale di Salerno, l'avvocato Benedetta Sirignano, coordinatrice nazionale della rete tutela legale Save the Woman e la criminologa Roberta Bruzzone. Antonio Genovesi, terzo centenario della nascita, è stato il tema di un incontro svoltosi a Palazzo Sant'Agostino dedicato all'illustre allievo di Gian Battista Vico, nativo di Castiglione del Genovesi. Il convegno promosso dal Centro Europeo Ricerchi Antonio Genovesi è stato motivo di riflessione sulla vita, sul pensiero e sulle opere del titolare della prima cattedra di economia in Europa, originario del Salernitano. Il pensiero dell'intellettuale dell'Europa dei Lumi, dunque ancora oggi attualissimo, apre ad una considerazione sulla relazione tra esseri umani e mercato, come luogo fisico virtuale dell'incontro tra domande e offerta, il cui funzionamento dipende dal buon comportamento degli esseri umani. Nell'anniversario dell'alluvione del 1954, che nella notte tra il 25 e il 26 ottobre interessò i comuni di Cava dei Tirreni, Salerno, Maiori, Minori e Tramonti, il Meetup Cava 5 Stelle di Cava dei Tirreni ha organizzato nel Salone di rappresentanza del Comune un convegno commemorativo su il rischio idrogeologico e la tutela del territorio. Un'occasione per ricordare e soprattutto per affrontare tematiche di tutela dei territori con politica di prevenzione. Al termine del dibattito, al quale hanno preso parte geologi, architetti e docenti universitari, è stato chiesto al senatore Andrea Cioffi di rappresentare in sede istituzionale la proposta formulata di allentamento del vincolo di stabilità per gli enti locali per tutte quelle opere di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico. Incontro a Palazzo Sant'Agostino per la creazione di sportelli dedicati alle politiche attive del lavoro. Il servizio di Maria Grazia Petrizzo. Intermediazione di lavoro e politiche attive, ruolo dei comuni, rete Silla nella provincia di Salerno è stato il tema dell'incontro promosso dall'assessore alle politiche del lavoro Pinesposito. L'obiettivo del convegno è stato quello di dar corso all'accordo di collaborazione con i comuni aderenti al progetto per la creazione di appositi sportelli nelle aree comunali dedicate alle politiche attive del lavoro. Si tratta di una programmazione territoriale utile ad amplificare il servizio pubblico dell'impiego e favorire così la capacità informativa nei confronti delle imprese, dei soggetti disoccupati, dei disabili e delle categorie protette. All'incontro hanno partecipato gli esperti del Formez Pia, i responsabili del progetto Silla 2, i sindaci di Acerno, Atena Lucana, Uletta, Campore, Piaggine, sottoscrittori del progetto, i referenti degli sportelli comunali e i responsabili dei centri per l'impiego preposti per area. A Cava dei Tirreni la presentazione della pubblicazione dedicata alle mostre realizzate in occasione dei mille anni della Bazzia Benedettina. Mille anni come un turno di veglia nella notte è il cofanetto pubblicato dalla casa editrice Gaia che racchiude i cataloghi delle tre mostre realizzate in occasione del millennio della Bazzia Benedettina di Cava dei Tirreni. I tre volumi presentati in una conferenza stampa a Palazzo di Città sono stati curati dagli studiosi Ada Patrizia Fiorillo, Gianluca Cicco e Rossella Luciano, i tesori d'arte dell'abbadia, capolavori di pittura e scultura, codici minati, oggetti preziosi di uso liturgico, Cava e la sua abbazia nei paesaggi della cultura europea, l'itinerario del viaggiatore e il suo modo di guardare la città, la storia del monastero dalla Longobardia minore all'unità d'Italia, percorsi espositivi frutto di ricerche e studi e raccontati nei tre volumi che hanno consentito il recupero e il restauro di importanti opere del patrimonio architettonico ed artistico del monumento, rispondendo agli intenti della legge speciale per il millennio, di cui è primo firmatario l'ex presidente della provincia di Salerno Edmondo Cirielli. In occasione del 4 novembre, giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate, l'amministrazione provinciale di Salerno rivolge un pensiero riconoscente caduti di tutte le guerre che hanno concorso all'affermazione degli ideali di libertà e pace e alla costruzione dell'unità nazionale. Apertura straordinaria di quattro siti museali provinciali per il primo novembre. Saranno fruibili al pubblico il Museo archeologico provinciale, il Castello Arechi, il Museo della Lucania Occidentale e la Pinacoteca provinciale. Resterà aperta invece domenica 3 novembre l'area archeologica etrusco-sannitica di Fratte. L'obiettivo spiega l'assessore alla cultura Matteo Bottone di continuare a garantire la più ampia fruizione e valorizzazione del patrimonio della provincia. E ora Villa De Ruggero con la rubrica Intramenia curata da Luisa Tornitore per la mostra dell'artista Antonio D'Amore che sarà visitabile fino al 16 novembre. Traccia d'artista è la ricostruzione elegante e suggestiva dell'immaginario visivo di Antonio D'Amore, un viaggio ideale ospitato nella splendida cornice di Villa De Ruggero a Nocera Superiore che indaga l'universo della ceramica d'arte, ma non solo. A fare da compendio al nucleo principale della mostra, quello dedicato alla nobile arte del plasmare e decorare l'argilla, un cospicuo numero di bozzetti che raccontano il percorso estetico del maestro D'Amore. Faldoni liberamente consultabili nella sala studio del Museo delle Arte Applicate contenenti gli schizzi e le prove che testimoniano l'iter creativo delle opere in esposizione. Era anche importante ricreare una sorta di storicizzazione perché altrimenti la mostra sarebbe diventata un po' sterile se non avrei messo anche una serie di disegni che rappresentano gli anni del mio percorso artistico. Un tentativo riuscito di rilanciare la tradizione vietrese reinterpretandola alla luce delle nuove istanze dell'estetica postmoderna. Con queste immagini si chiude il Tg di informazione salernitana.it Grazie per averci seguito. Appuntamento a venerdì prossimo.